ciao a tutti ragazzi e benvenuti sono Giacomo siamo qui sul mio canale voi mi conoscete come red ma il mio nome reale è Giacomo quindi ve lo dico oggi esclusivamente per questo motivo allora intanto voglio ringraziare tutti tutti quanti voi perché davvero avete venuto in me siamo abbiamo passato i 100 utenti quindi volevo ringraziarvi per questo anche se probabilmente qualcuno di voi penserà che 100 utenti sono pochi per me in realtà è un traguardo importante sono contento di aver raggiunto i 100 utenti in realtà siamo già arrivati 111 in questi giorni siamo cresciuti di altre 11 12 utenti vi voglio appunto ringraziare perché oggi sono io ringraziare voi vi ringrazio per avere creduto nel canale fino ad ora spero che continuerete a crederci andando avanti e quindi che rimarrete sul canale con me per vedere altri video appunto altre presentazioni altre cose che dire niente sono stato un po sento sul canale ultimamente ora vi spiego il perché perché ho sviluppato un secondo canale che in realtà io avevo già io avevo già questo secondo canale che era rimasto fermo quindi mi dispiaceva lasciarlo così e l'ho portato un pochettino avanti allora intanto vi dico anzi vi annuncio che questo canale è attivo si chiama giacomo p poi lascerò chiaramente nella descrizione di questo video il collegamento con quel canale se volete dargli un'occhiata o vederlo potete visitarlo tranquillamente magari anche iscrivervi se la cosa vi può interessare parla di high tech quindi tutto quello che elettronico ci sono che insomma il drone che ho acquistato per fare le riprese aeree sono tutte queste piccoli diciamo acquisti che utilizzo per me cioè tutte le cose che per me sono passione tutto quello che acquisto perché mi piace e che quindi porto sul canale proprio perché mi piace quindi sono cose che adoro tra virgolette che lavoro per acquistarle e quindi insomma me le tengo belle strette me le porto sul canale allora niente questo era per dirvi innanzitutto i ringraziamenti per seconda cosa appunto che c'è questo secondo canale se volete visitarlo visitatelo sono stato un po' sente per questo motivo ma adesso cercherò di portarvi altri video a riguardo proprio perché insomma non voglio lasciare gaming chiaramente senza video anzi lo voglio portare assolutamente avanti e che dire niente già che ci sono volevo consigliarvi sul playstation plus di questo mese un gioco molto molto carino il nome di questo gioco è life is stranger quindi è un gioco diviso in capitoli dovrebbero essere 4 5 capitoli se ho capito bene io l'ho usato circa una mezz'oretta perché volevo proprio vedere com'era questo gioco se potevo consigliarlo se era bello e sì vi assicuro è molto carino tratta di questa ragazza che fa foto e cose di questo tipo in questo gioco dovete interagire cioè decidete voi da che parte direzionarvi che risposte dare eccetera tenete conto che questa ragazza ha dei piccoli poteri che gli permettono di portare indietro il tempo allora non vi dico altro perché voglio che andate su playstation store e ve lo scaricate chiaramente perché è gratuito quindi se avete il playstation plus potete tranquillamente scaricare ad operarlo giocarci e basta che dire erano tre le cose che vi volevo dire e vi ho detto tutto io spero che insomma il video vi sia piaciuto vi sia servito e che questo gioco vi possa piacere life is stranger quindi scaricatelo cos'altro dire alla prossima spero che siete stati con me volentieri iscrivetevi al canale se non siete iscritti lasciate un like o commenti anzi e commenti sotto il video e alla prossima ciao